Il nostro progetto parte dall'allevamento delle farfalle. La samiacinta è una specie autottona della nostra zona. A causa dell'inquinamento si sta estinguendo sempre di più. Noi aiutiamo la riproduzione e il ripopolamento di questa specie attraverso l'allevamento personale che facciamo noi nelle nostre abitazioni grazie a delle voliere. Utilizziamo poi i bozzoli per produrre il principio attivo che caratterizza i nostri bozzoli. I bozzoli non creano nessun danno alle farfalle anzi il nostro intento è proprio quello di far morire il ripopolamento della specie quindi non facciamo del dolore alle farfalle utilizzando un loro componente.